Sono Andrea Dolzan, faccio parte del board di TMG Impianti, mi occupo della parte operation e tecnica di TMG Impianti. TMG Impianti che è un'azienda che progetta e costruisce su commessa l'input e lo stimolo che abbiamo ricevuto è stato principalmente dai nostri clienti che ci richiedevano maggiormente un'innovazione sui nostri prodotti e quindi l'implementazione di nuova tecnologia e TMG ha deciso di accettare questa sfida e implementare l'utilizzo della stampante 3D. TMG ha scelto come prodotto Markforge e con la tecnologia FDM. I vantaggi che abbiamo avuto nell'implementazione della stampante 3D sono stati principalmente la velocità della realizzazione dei nostri prototipi e un vantaggio poi tecnico, quindi l'utilizzo di forme geometriche completamente diverse che ci permettevano di spaziare e dare anche un valore aggiunto al nostro prodotto.